buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a vediamoci chiaro oggi parliamo del lavoro domestico c'è colf e badanti quanto sono diventati importanti per le nostre famiglie per le nostre case perché insomma aiutano tantissime persone anziane e non solo racconteremo insomma quali sono le novità e ce ne sono diverse perché proprio ieri è stato presentato un rapporto al Parlamento quindi Camera e Senato con tutti i numeri tutti gli indicatori e l'ho presentato Domina e noi abbiamo il segretario generale di Domina Lorenzo Gasparini che ringraziamo che l'associazione nazionale famiglia di datore di lavoro domestico e ne parleremo di tanti aspetti anche quelli magari di delle agevolazioni che starebbero in arrivo ma non vi svegliamo niente vero Maris per le vostre domande intanto lasciamo spazio alle domande ai nostri telespettatori quindi se avete delle domande che volete porre al nostro esperto e lui è pronto a rispondervi voi scriveteci tramite il nostro numero whatsapp ve lo ricordo memorizzatelo sui vostri cellulari è il 340 880 1035 potete mandare anche una mail più dettagliata vediamoci chiaro chiocciolatv2000.it e potete trovarci ovviamente anche su facebook instagram e twitter che ormai si chiama X. Allora segretario partiamo dai numeri perché ieri avete presentato questo rapporto alla camera e al senato al parlamento e quindi avete fatto avete scattato una fotografia molto nitida come fate ogni anno di tutto quello che avviene tra colf e badanti partiamo dal numero di famiglia le faccio vedere le famiglie che sono datori di lavoro domestico siamo arrivati a 977 mila un numero significativo sta crescendo o in diminuzione? Beh questa fotografia evidenzia che il lavoro domestico è sempre una parte fondamentale del nostro welfare sono sempre di più le famiglie nonostante un calo fisiologico che abbiamo avuto quest'anno perché perché abbiamo avuto una sanatoria del 2020 in cui c'è stata una forte aumento di contratti regolari come ogni volta che c'è una sanatoria ma se noi guardiamo i dati del 2022 in riferimento ai dati del 2019 vediamo che c'è un aumento del 5 per cento sempre più famiglie hanno alle proprie dipendenze un lavoratore domestico specialmente una badante lavoratore domestico in particolare badante poi ci soffermeremo sulle badanti come cercarle quanto quanto costano prima però le faccio vedere il numero dei lavoratori domestici c'è colf badanti baby sitter c'è questo universo molto ricco di persone nel secondo cartello vediamo sono un milione 85 vediamo 1,85 milioni vediamo da questo punto di vista ma soprattutto l'aspetto che mi incuriosisce e mi preoccupa pure che sono 894 mila quelle regolari ma 961 mila le isregolari cioè quelle che non hanno un contratto cioè addirittura superano superano quelle che sono regolari questo che cosa comporta dei rischi per le famiglie sicuramente dei forti rischi vediamo che il 52 per cento dei lavoratori purtroppo sono assunti in maniera irregolare quali sono i rischi possono esserci rischi innanzitutto di un'avvertenza da parte del lavoro del lavoratore non regolarizzato per cui alla chiusura del rapporto può chiedere una somma molto alta alla famiglia può capitare un infortunio al lavoratore non regolarizzato in questo caso c'è una richiesta di risarcimento per la famiglia e poi il lavoratore non è della comunità europea rischiamo anche a livello penale se non ha il permesso di soggiorno tra pochissimo lei ci spiegherà quanto costano badanti e colfi in particolare le badanti ma prima come vediamo di fare una scheda i numeri riguardanti le badanti e le colfi vediamo il lavoro domestico i lavoratori domestici regolari in italia sono quasi 900 mila un po meno degli irregolari che invece sfiorano il milione provengono prevalentemente dalla romania e dall'ucraina sono in stragrande maggioranza donne e in media hanno 50 anni a scattare l'ultima fotografia del lavoro domestico in italia e l'osservatorio domina nel suo quinto rapporto annuale che non tralascia di analizzare anche le proposte di riforma del settore in merito al miglioramento del sistema di cura in generale e all'assistenza domiciliare in particolare in italia dal punto di vista normativo c'è grande attesa della riforma per gli anziani non autosufficienti prevista dal pnrr il piano nazionale di riprese resilienza e nella speranza che si stanzioni i primi finanziamenti e nel piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso perché contenga misure di deterrenza oltre che persuasive per promuovere il lavoro regolare con incentivi finanziari quello dei lavoratori domestici è infatti uno dei settori con il maggiore tasso di regolarità 51,8 per cento contro una media nazionale dell'11,3 per gli altri ambiti produttivi degno di nota tra i risultati emersi è il trend dei lavoratori domestici italiani in aumento del 33 per cento negli ultimi dieci anni essi costituiscono oggi il 30,5 per cento del totale e ci sono regioni in cui la loro presenza è maggioritaria come la basilicata la puglia il molise e la sardegna in cui raggiungono l'ottantadue virgola 2 per cento non va ignorato un dato assai significativo l'impegno dei datori di lavoro domestico in italia che l'associazione domina rappresenta e che si traduce in risparmio per le casse pubbliche queste famiglie infatti spendono complessivamente oltre 14 miliardi di euro per i lavoratori domestici regolari e non facendo risparmiare allo stato 8,8 miliardi cioè l'importo di cui dovrebbe farsi carico se gli anziani accuditi in casa venissero ricoverati in struttura questi dati presentati al parlamento quindi che danno una chiara visione di quello che succede da dove arrivano le badanti e le colfe segretario iniziamo entrare nell'aspetto concreto che in qualche modo è stato tracciato anche dal servizio perché le chiedo innanzitutto vediamo il cartello come uno paga la badante e la colfe vediamo un attimo la situazione allora il 38 per cento in contanti il 32 per cento in modo variabile 27 con il bonifico il 3 per cento con gli assegni sbaglia chi paga in contanti dobbiamo pagare il lavoratore domestico in maniera tracciabile dobbiamo avere evidenza del pagamento perché nel momento in cui ci vengono richieste delle retribuzioni che magari già sono state erogate solo con la tracciabilità è possibile verificarlo per cui invito le famiglie a pagare il lavoratore in regola con un bonifico bancario o un assegno la tracciabilità è fondamentale le badanti quanto costano mediamente e che orario devono fare diamo proprio dei dati concreti alle persone a casa la badante convivente mediamente costa 1120 la retribuzione lorda se è una badante che assiste persone non autosufficienti per cui il totale siamo circa 17 mila euro l'anno una badante convivente noi abbiamo invece anche la possibilità di avere una badante ad ore c'è solo per determinate ore viene a lavorare presso la nostra famiglia e qui c'è una retribuzione minima che si aggira intorno agli 8 euro è chiaro che è fondamentale che questi lavoratori rispettino e abbiano i diritti che sono individuati all'interno del contratto quante ore devono lavorare sostanzialmente e hanno quanto riposo fondamentalmente loro hanno un giorno e mezzo di riposo settimanale più durante l'orario di lavoro hanno due ore di lavoro di intermezzo di lavoro tra la mattina e il pomeriggio il lavoro la durata del lavoro è circa dieci ore al giorno domande da casa maris e non sono poche allora prima della signora maria grazia volevo subito porre alessandro da cagliari lui ci ha scritto per primo e dice a proposito dei riposi ma è vero che il giorno di riposo di una badante convivente in quel giorno lei potrebbe anche dormire fuori ricordiamoci che è un giorno di riposo per la lavoratrice per cui sicuramente così come durante i riposi infrasettimanale la lavoratrice ha diritto di aspettare le per le cose che vuole insomma ecco segretario ma nel troppo spesso la badante deve essere attente una persona molto anziana che ha dei problemi spesso allora che succede quella giornata che quella giornata e mezza che giustamente per contratto deve riposare io cosa devo fare devo fare un nuovo contratto con un'altra persona è possibile non so pagando in maniera diversa come qual è il suggerimento che lei sente di dare il suggerimento è che di trovare una persona che vada se c'è una totale non autosufficienza dell'assistito che vada a lavorare nei periodi di riposo anche in quest'ambito è possibile regolarizzarle sono state individuate delle figure proprio per agevolare i datori di lavoro che hanno già una badante il costo chiaramente sarà molto inferiore perché limitato alle ore e alle giornate in cui non c'è l'altra persona stiamo parlando delle badanti ma c'è da osservare anche qualcosa per quanto concerne le colf ecco la spesa media che là è spesso a ora no si pagano le colf qual è attualmente è cresciuta è aumentata da un punto di vista se uno regolarizza ufficialmente una colf per le ore che viene a lavorare a casa i minimi retributivi del 2024 sono aumentati molto molto poco la retribuzione minima per una colf quindi una persona che fa le pulizie si attesta intorno ai 5 euro e mezzo 5 euro e 50 mentre la retribuzione media erogata è intorno agli 8 euro quindi viene erogato già un super minimo per cui la retribuzione normalmente data copre i minimi retributivi gli 8 euro bastano per quanto riguarda la possibilità del lavoro fatto da una colf a proposito di colf, la signora Maria Grazia che vi anticipavo prima ci ha mandato un messaggio su whatsapp scriveteci anche voi, lei ci racconta ho una signora filippina che mi aiuta nei lavori domestici una volta a settimana per circa 4 o 5 ore ecco non vuole che l'assicuri che le faccia un contratto regolare perché il marito prende degli assegni insomma dei contributi ed io ho sempre la paura insomma che si possa far male quindi vuol sapere come si deve comportare se le può fare ad esempio un'assicurazione a sua insaputa e conferma insomma che comunque la signora prende 8 euro l'ora quindi prende il minimo consentito che cosa deve fare la signora Maria Grazia? la signora Maria Grazia deve regolarizzare la lavoratrice il contratto permette di regolarizzare anche se uno svolge un'ora alla settimana e chiaramente i costi sono riferiti a un'ora alla settimana ci sarà semplicemente in più ma com'è giusto pagare la retribuzione che impatta per il 13% ma in questa maniera noi i datori di lavoro si tengono in protezione di possibili vertenze è importante poi che mensilmente venga erogata una busta paga e ricordiamo come abbiamo detto prima il pagamento tracciabile è fondamentale regolarizzare tuteliamo le famiglie italiane anche segretario facciamo un passo indietro devo trovare un abbadante cosa non facile perché funziona ancora il passaparola o ci sono altre strade perché oggi è fondamentale anche cercare di capire se si crea quella sintonia tra la persona che bisogna assistere e l'abbadante ora c'è un periodo di prova? allora il contratto prevede al suo interno un periodo di prova per i conviventi di 30 giorni per i non conviventi di 8 giorni dove vanno le famiglie se hanno bisogno di trovare un lavoratore qualificato? ancora un punto di riferimento importante sono le parrocchie stanno però emergendo dei servizi alternativi come agenzie di lavoro, agenzie interinari punti di formazione di questi lavoratori è fondamentale però verificare la serietà di queste agenzie dobbiamo porre molta attenzione perché oltre ad avere, scegliere un abbadante qualificato una colf qualificata dobbiamo verificare anche l'empatia che si stabilisce tra l'assistito e il lavoratore e allora si parla sempre più lo dico al segretario ma ci faremo un collegamento tra qualche istante di persone, lavoro domestico specializzato perché spesso uno ha una patologia una persona quindi ci vuole un abbadante che magari sia molto più attenta a quel soggetto che deve accudire perché insomma è una persona di famiglia è una persona cara, è un amico e quindi si va alla ricerca sempre più di personale qualificato e allora siamo in collegamento con Francesco Costanzo che è un responsabile dei corsi di formazione a cui chiediamo subito è davvero così? Voi formate proprio i lavoratori domestici colf e badanti in che modo? Attraverso dei corsi? Come si svolgono? E perché? Buongiorno innanzitutto sì, noi come punto domina siamo a Roma ci occupiamo di corsi di formazione per colf, badanti e babysitter da otto anni l'utenza a cui ci rivolgiamo quando apriamo le iscrizioni a un corso di formazione è di due tipi fondamentalmente persone che hanno già esperienza o che addirittura lavorano mentre frequentano il corso già nel settore e quindi si iscrivono e frequentano i nostri corsi per aumentare quelle che sono le proprie competenze e questo tipo di utenza poi lo portiamo agli esami di certificazione di Ebbincolf perché i nostri corsi sono organizzati in collaborazione con Ebbincolf che è l'ente bilaterale del comparto del lavoro domestico in particolare della formazione un altro tipo di utenza invece è quella di persone che vogliono cominciare a lavorare nel settore del lavoro domestico quindi o non hanno mai lavorato e quindi si iscrivono ai nostri corsi per acquisire delle competenze di base oppure sono persone che hanno già svolto degli altri lavori e quindi hanno perso il lavoro può succedere e quindi per riqualificarsi si iscrivono ai nostri corsi Ecco Costanzo Costanzo le chiedo quanto tempo dura un corso che mediamente che costi ha e soprattutto quali requisiti per potersi iscrivere a questi corsi? Allora innanzitutto i nostri corsi sono gratuiti non hanno un costo sono dei corsi che vengono finanziati tramite la domina nazionale da Ebbincolf che è l'ente bilaterale sono dei corsi che durano 64 ore hanno un modulo che prevede un'app in comune per tutti i corsi che è quella relativa alla figura del collaboratore domestico Colfe sono 40 ore e poi in aggiunta un modulo di 24 ore che se è un corso per badante o una specializzazione per badante può essere un corso per babysitter e quindi le 24 ore sono dedicate alla figura della babysitter Un'ultima domanda le faccio a proposito delle famiglie che cosa chiedono? Ormai la specializzazione anche un po' in base alla patologia al problema che vive una persona che ha bisogno di un abbadante si cerca anche di delineare una formazione minima è chiaro che non devono sostituire l'infermiere non è possibile però voglio dire una maggiore predisposizione magari avendo avuto esperienze in questo campo è richiesta dalle famiglie? Assolutamente sì le famiglie richiedono delle referenze laddove è possibile da parte di altre famiglie che hanno già utilizzato quel lavoratore quindi avere anche una formazione a maggior ragione certificata da un ente formatore che appunto è Bingolf è importantissimo le famiglie tendono sempre più ad avere lavoratori con competenze e specializzati e con una formazione specifica insomma grazie davvero grazie davvero Francesco Costanzo responsabile dei corsi di formazione perché insomma mi sembra che si vada da sempre più lo dico al segretario verso una specializzazione arriviamo a un punto fondamentale state ben attenti perché questa è la vera novità di queste ultime ore ve la diciamo un po' in anteprima perché il problema vero segretario è il costo perché uno poi alla fine se ha una pensione tutta questa pensione se ne va nella badante allora quali sono attualmente le agevolazioni che ci sono fiscali e quali potrebbero essere perché ci sono delle novità proprio delle ultime ore che lei ci racconterà tra qualche istante quali? sì assolutamente ad oggi noi abbiamo la possibilità di portare in deduzione semplicemente i contributi fino alla somma di 1547 euro e portare in detrazione le spese del 19% fino a 2100 euro per chi non è autosufficiente quindi poco pochissimo pochissimo sono allo studio e dentro il primo trimestre verranno rese pubbliche due evidenti fattori che aiuteranno i lavoratori il primo è sul cosiddetto decreto anziani per cui per il 2025 e per il 2026 si farà una azione sperimentale dando la possibilità agli ultrarottantenni con un ISEE per adesso basso di avere un aumento dell'indennità di 850 euro al mese questo vuol dire abbattere i costi di una lavoratrice di un abbadante di circa 60-70% pagare assolutamente la parte restante però bisogna avere dei requisiti economici anche questo è una sicurezza l'altra che è anche molto molto importante è un'indiscrezione però bella è stata annunciata ieri durante la presentazione del rapporto annuale è che allo studio una decontribuzione dei lavoratori degli assistenti familiari per cui le famiglie che hanno un abbadante hanno allo studio la possibilità che venga data la possibilità di non versare i contributi che sarebbero contributi figurativi se ho letto bene anche in base all'età sì esattamente in base all'età c'è la persona che viene assistita a una certa età a quale età si sta faventando io spero che sia dai 65 anni in su ecco se allora lì ci sarebbe un abbattimento consideribile e mi sembra una notizia molto importante per tanti è un inizio fondamentale per considerare il lavoro domestico di qualità Maris la signora Antonella da Campobasso ci scrive io accudisco a mia mamma ma non ha la possibilità di retribuirmi almeno mi posso versare i contributi per non ritrovarmi anch'io alle vecchiaie in difficoltà economica possiamo dire ad Antonella possiamo dire che esistono due possibilità una all'interno del contratto collettivo del lavoro domestico per cui è possibile per i familiari essere assunti come lavoratori fino di non autosufficienti per l'assistenza di non autosufficienti però con un contratto dall'altra parte esiste anche un fondo per i cosiddetti caregiver ancora la signora Rita dice ecco ma se io per diversi motivi ho già magari una collaboratrice domestica se per diversi motivi dovessi procedere insomma alla cessazione del contratto di lavoro ho dei giorni di preavviso se sì quanti sono? i giorni di preavviso variano in base all'anzianità del rapporto di lavoro per cui dipende dal tipo di rapporto di lavoro poi posso riconoscere i giorni di preavviso o posso pagare direttamente l'indennità interrompendo il contratto da un giorno all'altro segretario all'inizio della trasmissione abbiamo visto che provengono quasi tutte quante dall'estero però attenzione perché c'è una crescita considerevole anche di badanti e badanti insomma uomini e donne e anche del lavoro domestico italiani e così c'è una crescita vertiginosa molto significativa negli ultimi anni sì assolutamente perché è vero che il 70% sono lavoratori stranieri ma la prima nazionalità di provenienza è quella italiana oltre il 30% e se noi vediamo stanno crescendo anche gli uomini che fanno questo tipo di attività perché magari perdono il lavoro in altri settori specialmente nel sud Italia arrivano al 25% gli uomini lavoratori di nazionalità italiana però abbiamo visto che insomma è un lavoro sempre più qualificato sempre più professionale cioè è cambiato anche nella mentalità delle persone un po' questa idea del lavoratore domestico è uno magari che lo fa perché non ha altre possibilità non è tanto così proprio brevemente in 30 secondi poi sentiamo le domande è diventato un lavoro sempre più qualificato possono avere la certificazione UNI 11766 che viene riconosciuto a livello italiano sono lavoratori che stanno acquisendo sempre una maggiore dignità che meritano Maris allora un telespettatore purtroppo non si firma dice quali sono più o meno gli orari del fine settimana per chi ha un abbadante convivente ecco oltre al giorno di riposo il fine settimana abbiamo detto il fine settimana se non è scelto un altro giorno la domenica è considerata giorno di riposo il sabato può essere concordato tra la famiglia e il lavoratore qual è la mezza giornata di lavoro questo è anche a seguito della disponibilità dei familiari magari di coprire le ore in cui non c'è il lavoratore domestico l'abbadante convivente invece che vuol dire la famiglia che deve mettere a disposizione di questo abbadante? la famiglia deve mettere a disposizione un luogo quindi una stanza in cui l'abbadante può dormire può avere tutte le sue cose quindi è proprio avere la possibilità di risiedere all'interno dell'abitazione con la propria privacy che è dovuta ad ogni persona oltre al vitto chiaramente chiaramente vitto e alloggio vitto e alloggio Maris Michele invece chiede ricordiamo anche chi ci sta seguendo che ancora deve cercare un abbadante che ci sono dei giorni di prova da poter fare vuol sapere Michele se questi giorni di prova devono essere contrattualizzati ovviamente pagati ma se devono essere anche contrattualizzati quelli? si deve essere contrattualizzata se io assumo da domani un lavoratore domestico io lo contrattualizzo il giorno di prova se il lavoratore è convivente sono 30 altrimenti sono 8 ma sempre all'interno del contratto per evitare vertenze evitare contrasti tra lavoratore e famiglia grazie grazie davvero a Lorenzo Casparini anche per queste notizie che secondo me sono molto importanti per milioni di famiglie questa possibilità da parte anche del governo del Parlamento di questo provvedimento che abbatterebbe insomma andrebbe incontro proprio alle esigenze di riduzione del costo che è veramente elevato per tantissime famiglie ogni mese che hanno un abbadante o una colfa nella propria casa grazie davvero Lorenzo Casparini segretario generale di Domina associazione nazionale famiglie dei datori di lavoro domestico noi Maris chiudiamo qui questa puntata chiudiamo qui grazie grazie a tantissimi delle spettatori che ci hanno scritto e vi diamo appuntamento domani alle 10.30 per parlare di congelati e surgelati perché ormai più del 77% degli italiani compra per praticità o per maggior sicurezza e surgelati ma sono davvero sicuri domani lo scoprirete insieme a noi domani è una puntata molto pratica quindi attenzione guardate bene questa puntata e scoprirete in che modo anche congelare tutto quello che avete a casa perché qualcosa si può congelare qualche altra cosa è meglio evitarla la scopriremo domani grazie a tutti serena giornata come sempre grazie a tutti